buongiorno ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video finalmente arrivata la neve a tromso tanta neve però la pescata che state per vedere è una pescata di qualche tempo fa è la pescata successiva a quella che ho fatto sulla piattaforma siamo tornati con sigurd sullo stesso spot che è uno spot stra pescoso e abbiamo fatto il delirio però prima di lasciarvi alle clip voglio mostrarvi un pacco che mi è arrivato anche qui in norvegia che voglio condividere con voi e sì perché me grill mi ha inviato delle cose che avrei voluto fossero arrivate prima perché sono più per il fresh water in particolare questa scatola che contiene dei rotanti che in realtà ho utilizzato anche in una recentissima trasferta che abbiamo fatto a segna non ero andato lì per pescare ma ovviamente la canna me la sono portate due lanci li ho fatti e un pesce al lancio l'abbiamo preso anche se piccolo erano dei sei che si trovavano proprio nella risacca e mangiavano molto avidamente questi rotanti in particolare ho utilizzato un rotante argento sono di diversi colori sono molto molto carini e sicuramente li utilizzerò quando tornerò in italia perché qui ormai la stagione del fresh water sta un po' giungendo al termine perché stiamo passando dal periodo caldo in cui si poteva pescare nei laghi tranquillamente al periodo in cui i laghi iniziano a ghiacciare ma non è ancora quel ghiaccio super che consente di fare ice fishing molti di voi me l'hanno chiesto ma andando via a fine anno non avrò modo di pescare dal ghiaccio un'altra cosa che mi ha mandato me grill sempre è questo murinello uno spin cast reel davvero particolare però è un murinello da challenge diciamo un murinello spin cast che si lancia con questo bottone che uno preme lancia non so sinceramente come funziona però mari può essere il personaggio principale di un prossimo video futuro di challenge chi lo sa vi lascio entrambi i link amazon di questi due prodotti in descrizione e ora vi lascio il video bando alle ciance spero che vi piaccia buona visione ok eccoci arrivati alla piattaforma qui c'è la roba di sigurd che è andato un po giù a provare a prendere qualche pescesca stiamo pensando a i merluzzi neri chiamati qui coal fish questa è la sua roba guardate che amone gigante che per cui oggi ci andiamo cattivi adesso mi faccio qualche lancio qua sperando che anche lui riesca a prendere qualche bait fish questa è la mia prima canna la canna che voglio mettere per i big fish con un pallettone un amo e un ancorotto dietro un pesce intero voglio miscare poi utilizzerò una canna media che è la mia ninja travel per dei tranci di pesce e poi una canna più leggera per invece dei tranci ancora più piccoli poi si urda anche dei gamberi mi pare di aver capito se puoi contattare quello che mi pare di poter andare a prendere quindi potremmo 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 andare a prendere questo è un peggio che è in grado di farci sì sì è è eccoci quanto il harddock è in grado sì ok primo peggio La piccola è abbastanza Ah, sì Ho scoperto di dire che Sigurd ha un canale YouTube Quindi lascio il link in descrizione Questi sono colfischi Sì, perfetto Cool Abbiamo il primo bait Un po' di 4 kg e un po' di 50 kg E' felice che non tutti è così Oh Qui c'è? La piccola La mia figlia ha fatto 13 kg 13? E mi ha sempre ricordato che ha un po' di più grande co-fisch Un po' di più Ma ok Da l'occhio Da l'occhio Da l'occhio C'è alcune di queste usiamo per fare un po' di filetti C'è alcune di queste usiamo a casa Bait fish Prima missione compita Ok, quindi hai questo tipo di rigging Con il grande circolo C'è alcune di tutto C'è alcune di tutto O che è in attività Quindi io sono sul basso Quindi mettiamo un po' di più E poi mettiamo un po' di più E poi mettiamo un po' di più Un po' di più E poi abbiamo più attività in l'occhio E poi mettiamo un po' di più Da il mozcola Limanda-Limanda è il nome Ok, io sul po' di più and you have it on the bottom you have to get the line straight and uh yeah then i often just uh yeah oh yeah you already have i didn't even need to tell you the technique i didn't do nothing is it on i don't know no it's off okay i have to twitch twitch and then leave it yeah i usually um just take it down to the bottom a few times and just go like this okay okay and then stop and then usually it will come and take it yeah they are eating if it's going down like that you have to strike but if you just like this you have to wait okay yeah now wait yeah i have one now i have one no lo slamata i lose that one andre ma che che ci fai qua i lost it yeah it yeah what a strike i don't know what it is it's not going from very heavy and then yeah i think it's a flat fish that could be my first flat fish norwegian flat fish and there we go yeah that's not bad as well whoa that's cool bellissima but is this a dab yeah it's a lemon that's beautiful the easiest uh species that's beautiful so it eats the shrimp yes on the lower hook the smaller hook yeah and i will eat this fish but that's very good my first flat fish in norweg so thanks to sigurd we caught our first flat fish if i catch us an alibut even if it's small i will be happier another maybe this is bigger it feels bigger yeah oh it's an ad hoc but it's an ad hoc on the shrimp oh what is that it's an ad hoc too much fun anyway no maybe it's a sea urchin now that's cool a decent dab it's beautiful perfectly perfect yeah and they they love the shrimp in pokemon game see you oh of course my favorite fish to catch here the ad hoc yeah oh a dub it's another dub yeah it's it has spots strange spots guys this is the biggest dub i caught beautiful with the sigurd rigging oh that's the yeah that's big coal fish say for andrea andrea uh in italy he doesn't go fishing maybe this is a cod no it's a it's a dub oh and a coal fish tried to eat the the upper lure oh that was a bit tiny yeah i love this fish yeah i will release you let's go i'm using a canna even more leggera fish small hot dog no i don't know yeah yeah maybe maybe yes that's a flat fish for sure maybe this is a an alibut no two dubs two 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 dubs in a row this is the smallest and it took the larger hook and this is the larger and it took the shrimp on the lower hook beautiful how do you block it? because now you're going back if you don't worry instead you wouldn't have to look i understood but a dub a dub with the jig see see no i i think you put a shrimp on it andrea has a fish from san benedetto to tromso so let's go yeah it's a dub you caught your first dub oh yeah here if you do experience quickly what is that ah nice dub okay it's a dub and it's not that big but it's not small bye dub i see a glowing hunter i have a fish that's a tiny one on the hook on the hook as well that is that is the most ancient fish species in the world yeah you can see the slime on the way missina is called in in italy without eye without jaw it's one of the most ancient fish in the world it's like a snail yeah pretty cool fuck it's not either a fish in our but i guess that's more the species hunters look at that yeah that's pretty nasty yeah yeah you can uh yes and no yeah 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 i would like to learn in norwegian yeah but it's probably not the easiest no to learn i don't think italian is that easy either like to learn yeah i have one you have one that's a bit bigger but there you see it wasn't hooked yes okay there are a lot of them yeah in the sand so they can grow up to 85 centimeters 80 centimeters apparently yeah 80 centimeters i've never seen it though i think it's really rare very strange future yeah yeah that's awful to be a teacher for two weeks during with the university and students and then what is that a mackerel yeah yeah my first mackerel here it's pretty random it was a bit far down as well cool a mackerel no sgombro sgombro is called in italy yeah wow i caught a mackerel in the blue oh you had one yeah what is that wow okay we have finally a very big fish it's big anyway it's big i think it's a cod what do you think it's the biggest of the day no doubt what is that a cod it's a big cod oh wait that's a big one awesome okay grab under his skills yeah you have it yeah that's a big one nice one four kilos maybe cool 3.8 nice that's not four kilos but it's my personal best cod wow okay it's so long actually 80 centimeters 82 83 it could easily have been five kilos that fish if it had been you see how skinny it is usually they are the head isn't the biggest thing usually the head and then the body around here this is skinny it's messed up yeah okay guys we finished our fishing session it was very cool very fun because i caught six pieces if we we count the ag fish which sigurd doesn't like to count but it's a fish you know that cod caught here was beautiful and of course here it's very easy to catch fish and it's nice it's fun and uh thank you sigurd for uh no worries no worries for being with me in this video e niente ci vediamo la prossima grazie per la visione forza milan forza milan ciao 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 Grazie a tutti.